Uno stop di quattro ore dalle 13 alle 17 per manifestare la solidarietà agli elevatori sardi. L'orto di Eleonora, cooperativa agricola campidanese, si unisce al grido di dolore dei pastori e comunica che domani pomeriggio nelle campagne e negli stabilimenti il lavoro si fermerà. Crediamo fermamente nel valore della cooperazione e ci dichiariamo a favore di una soluzione pacifica dei contrasti esistenti, fanno sapere dalla direzione. Si fa sempre più ampio il fronte solidale. La CAO, una delle maggiori aziende e produttrici di formaggi e vini, ha bloccato produzione e distribuzione. Negozi e uffici chiusi a Marrubio e a Rio Lasardo e intanto i pastori continuano la loro battaglia.